In questo momento il centrodestra soffre la divisione fra Lega e PDL. Io ho paura della prospettiva del centrodestra e vorrei parlarne citando rapidamente alcune cose. Prima ho accolto una battuta del dottor Martini sulle forze occulte. Io non ho mai detto che ci sono forze occulte dietro il governo, sono assolutamente palesi. Si vede chi c'è, un certo mondo finanziario, bancario, certo potere che non ha voti, ha azioni, non ha voti. Diciamo che si troviamo in una condizione di democrazia un po' falsata, chiamiamolo così per essere gentili, perché domenica mattina non bisogna urlare. Se il suo giornale glielo consentirà, venga domenica 18 dicembre a assistere alla nostra manifestazione, ancora contenuta, poi faremo la grande manifestazione nel mese di gennaio probabilmente, e verrà che c'è anche un popolo che è un po' più preoccupato di come voi trattate questo governo, tutto così facile. E' retorica dire che c'è una grande differenza, perché questa poi arriva alla questione, dal tempo dei 2 milioni di lire e delle mille euro di oggi, no? Non credo che sia retorico, c'è una differenza enorme. C'è qualcuno che si pone i temi che si è posto Cameron in questi giorni, in questo nostro paese? Il tema di come ci stiamo noi in Europa, il tema della sovranità di questo nostro Stato, di questa nazione, del nostro popolo. Ha qualche guai oggi Cameron in Gran Bretagna, eh? Clegg ha detto che... Sì, ma io vorrei parlare dei guai di casa nostra. No, 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 siccome lei citava Cameron... Abbiamo visto Monti, in quei sottoscala a cui faceva riferimento Martini, nei sottoscala ci stanno anche i leader di questa maggioranza quando si vedono di nascosto, sembra Casa Pesenna, no? Dove è stato preso il boss, non sono boss ovviamente, faccio una metafora la mia, perché non si devono far vedere insieme. Allora, vedete, a marzo, quando in Europa si dovrà decidere con un trattato, con una firma, la conferenza intergovernativa, dovrà dire da oggi i vostri bilanci li facciamo noi, ci sarà spazio, ecco su cosa il centrodestra si va a interrogare, per qualcosa che coinvolga il nostro popolo? Si avrà la possibilità di far pronunciare i cittadini? Me lo faccio a chiedere. Nel tempo in cui la democrazia viene sospesa, non sono parole mie, è Berlusconi che parla, ci possiamo permettere la sospensione della democrazia anche oltre confine? Su questo boss è rotto. Allora chiedo scusa, non mi devi convincere, non mi devi convincere, però siccome tutti parlano con tanta abbondante dose di saliva di questo governo, voglio capire se ci sarà uno spazio di democrazia in cui i cittadini italiani diranno sull'Italia vogliamo decidere noi. Abbiamo fatto tanta polemica, per i ministeri a Milano si sono trasferiti a Bruxelles, non è che sono un po' più a nord sono andati. Allora, cosa vorrei dal centrodestra? Il recupero delle proprie ragioni. Il recupero delle ragioni, vedete, in questo dibattito, e ho ascoltato con molta attenzione Staterini, alcune cose le condivido, altre no, come è ovvio che accada, sicuramente nel Partito Democratico, che è il partito che ha fatto eleggio, i deputati di Redichiai non condividono nessuna delle cose che dice Staterini, eppure stanno insieme, eppure sono costretti a convivere. Allora, quando si parla del futuro dell'Italia, e chiudo su questo, la bancarotta del centrodestra, è vero, non c'è alcun dubbio, perché rimettere insieme i cocci non sarà facile, io vedo questo governo, che non mi piace, mi dispiace che il centrodestra sia accaduto in questa trappola che ha fatto naufragare decine di milioni di voti e il milione passa di iscritti, non contano nulla, perché basta il governo delle banche, arriva e fa quello che gli pare, i parlamentari sono stati insietti, chi è che deve risanare i conti di questo Stato? A proposito di debito, un governo che nasce dalle manovre descritte straordinariamente e da Martini e da tanti cronisti di Paolo Cirino Pomicino, dei trentenni che stanno in Parlamento non per anagrafe di vita, ma per anagrafe parlamentare, perché quelli che ci parlano del futuro dell'Italia sono quelli che sono stati in Parlamento 30 anni fa. Fini, Casini, D'Alema, e Pisano da 40. Questi ci parlano del futuro dell'Italia. Posso dire che sono schifato?